io devo fare il video questo invece... acqua acqua si bell'idea che ha avuto andiamo per la pista da sci bravo bravo e dopo c'è anche da rifarlo complimenti eh questo qua ha delle skills da vendere venga il ragioniere che non sa cosa l'aspetta qui ma la davanti ce n'è ancora vedo che abbia la posa del gioco mi piace che non è neanche tutta la fonte qui qua il piedino lo cancelliamo con potesse ombro che va? mia dov'è? io quasi quasi mi nasconderai dietro l'albero qui c'è il sole oppa 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 qui c'è il sole scratch scratch stramos stramos vai di là di palubro andiamo a far favore c'è un po' di traffico in questo momento una volta fatta quella pulga lì la allarga pure è pure larga adesso molla il tennis molla 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 hai guadagnato uno skill vedi che c'è così così si sgomba addirittura ti affermo con quel piede lì oggi lo sto usando però non lo accoggio ho un po' di appoggiare cos'è il? il tratturo il mio da noi si chiama il tratturo si chiama il tratturo ok si imparano sempre cose nuove dopo non accompagnano molto qua ma fin lì accompagnavano e lei sa se li ha un po' sbagliati all'ingresso eh? non lo so non lo so ma vaffancio oh linea contessa come al solito tanto che l'hai in lontananza io vi chiesco il Duca Conte ma arriviamo alla Roda no 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 sì sì arriveremo alla Roda invece perché ultimamente ci siamo sbagliati io non è capitato io non ero nel 2006 come nel 2007? non erano nel 2006 ooooh finito finito facciamo occhio che è meglio 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 c'è un lino no che lì si vede chiaramente distintamente il lago di Cerlago il lago di Saverdi e il lago di Garda tutti in fila li vedi? e se vuole lì c'è il badicchio mettiamolo prima le mani perchè stanno chiamando il picchio del fear trail meglio scendere con le firelli o con le mislelli mislelli meglio le firelli o le mislelli maxis palù non ci fai polpo ciao dove va? di là e queste sono gocce d'acqua e no buono e mo? palumbro ma ti hai dimenticato le skills a casa? ahhh che delusione il vallico è una direttissima destra, si spostino era il limite dell'impuntamento me lo fai un girello, me lo fai un girello, eccolo il girello ecco la contesa che mi fa la linear drop, non mica uno stronzone come voi che si complica la vita a girare destra e sinistra, doppio girello, è doppio cammino, è cercato una linea come farà sembra di vedere a Zdrock a piedi, mezzo bicchiere di birra obbligato a berlo è un vecchio di 50 anni, un po' di sole, l'elettrico ha finito le batterie, il giovane di 23 anni la pietra che spinge ah signore, mondo all'elettrico freni roti, diceva fantastico via tutto di qua non è successo? non è successo ah non è successo? ha è successo? è successo? guardi che meraviglia grazie